Adriana! Adriana! Ma c'è il finale? Faccio le scale! Dottoressa, a parte gli scherzi, per un attimo facciamo quelli seri. Le scale, lo diciamo approfittando della musica, non l'abbiamo fatta apposta, insomma poi i pacchi si combinano con le chiamate, con l'allegria. In questo momento le scale ce le state facendo fare voi, voi qua, in studio e voi a casa, perché affari tuoi non dico mai come in questo periodo, ma insomma ci state facendo fare dei risultati. Altro che Rocky! Grazie!